Buongiorno a tutti San Venceslao, Martire, il sole è sorto alle 7, tramonterà alle 18.55, 15 gradi e 7 la temperatura alle 7.30 del mattino con questo cielo ancora nuvoloso, con debole pioggia, pioggia che persisterà ancora nella giornata di oggi, avremo infatti brevi rovesci sparsi, temperature in diminuzione nei valori massimi, venti nord orientali, il mare sarà molto mosso. Per domani migliora, avremo temperature senza variazione di rilievo, con venti nord orientali, il mare sarà mosso. La giornata di mercoledì sarà ancora caratterizzata da condizioni di prevalente stabilità a seguito di un probabile peggioramento delle condizioni del metro. Si parla di questo ciclone mediterraneo che dovrebbe colpire l'Italia il primo di ottobre. Le temperature più o meno si aggirano intorno ai 18-20 gradi, 21 gradi. Allora adesso andiamo a leggere i giornali, in primo piano l'incendio che è avvenuto nel capannone della Profilglas, l'azienda che si occupa di alluminio a Bellocchi di Fano. Profilglas incendio nel capannone provoca un'alta colonna di fumo nero, paura ieri pomeriggio a Bellocchi di Fano, intorno ai 18 di vampato un incendio ad un deposito di lavorazione di alluminio che si trova all'interno di un capannone. Le fiamme hanno investito l'intero cumulo, provocando una colonna di fumo nero che ha terrorizzato i residenti nella zona in cui temevano la presenza di sostanze chimiche altamente nocive. Spazi per giovani autogestiti, Fano si interroga dopo il caso Grisli e poi l'incontro con Monsignor Giovanni Tonucci che festeggia il 25esimo di Episcopato. è arcivescovo di Loreto, sarà ricordato oggi alle ore 18 al ristorante alla Lanterna di Metauriglia di Fano dal circolo culturale Jacques Maritain. Durante l'incontro sarà lo stesso arcivescovo Tonucci, originario proprio della frazione di Metauriglia, a raccontare la sua pluriennale esperienza diplomatica iniziata nel lontano 1968 di nunzio apostolico in diverse serie di diplomatiche vaticane sparse per i vari continenti. Poi l'altra notizia invece in evidenza sui giornali è quella del funerale che c'è stato ieri mattina all'intero paese di Monbaroccio. Qui hanno ucciso la democrazia, Monbaroccio a lutto contro il sindaco, Bara, Fiori e donne con il velo sul capo, i residenti inscenano la protesta. Palmucci che è di area PD, oggi sfila la gente e non la politica, non ci fidiamo del primo cittadino. Il presidente della Proloco Bartocetti dice la manifestazione a lutto dimostra la morte della democrazia, dalla maggioranza mi aspetto un passo indietro, prima si deve vedere, sapere a cosa si va incontro. E l'altra pagina invece del resto del Carlino, un'altra domenica di caccia, cacciatori in cucina, proteste, famiglie di Candelara, si sono ritrovati ieri le doppiette nelle case, prima hanno tollerato, poi hanno protestato e adesso stanno raccogliendo le firme per chiedere di essere protetti dall'arroganza di qualche cacciatore che invade i loro giardini arrivando con i cani alla porta di casa. Capriolo gli taglia la strada, pauroso volo di un ciclista, brutta avventura per un fanese a Fossombrone, soccorso dall'eliambulanza. Non è in pericolo di vita, è in osservazione del San Salvatore di Pesero, Fiorenzo Mencucci, il ciclomatore fanese di 68 anni, che ieri mattina ha avuto un incontro ravvicinato con un capriolo a circa un centinaio di metri, passato lo svincolo della superstrada in zona San Lazzaro, a ovest dell'abitato di Fossombrone. La provincia trasferisce 250 dipendenti, passeranno prima con mansione invariata alle dipendenze della regione. Il massiccio travaso di persone comporterà 6 milioni in meno di spese. Via subito o quasi, dunque, 250 dipendenti della provincia, li assume la regione Marche. Il decreto è stato appena firmato dal presidente Tagliolini. Sul resto del Carlino, la bella notizia della nascita della bambina di Ivan Cottini. Quando ho visto la mia bambina ho capito di aver vinto la sclerosi. Cottini racconta i primi sconvolgenti minuti da babbo. Volevo arrivare in tempo per vederla nascere. Pesa 3 kg e 600 g. È venuta al mondo sabato scorso alle 22.45. Apriamo adesso invece le pagine del Corriere Adriatico. Un detenuto si è impiccato alle sbarre della cella. Soccorsi inutili. Tragedia nella casa circondariale di Villa Fastigi. Un magrebino che doveva scontare la pena di un anno. Il sindacato dice l'alta tensione ogni giorno. L'OSAP denuncia la crisi di identità che il carcere determina e chiede un ripensamento generale. Tagli per altri 6 milioni e mezzo. L'ente, parliamo della provincia, sopravvive. Va in discussione il bilancio. I fondi per strade e scuole non bastano neanche per l'emergenza. Fondamentale sarà l'aiuto atteso dalla Regione per il piano neve e strategico il sostegno ai comuni. Premiata la fautrice della pace tra cattolici e protestanti irlandesi. Mary ha ricevuto il riconoscimento speciale donna. Anche qui da Fossombrone ciclista cade per un capriolo. L'incidente sulla Flaminia, soccorso dall'eliambulanza. Qui in questo tratto di strada i pericoli sono continui. Ora a Monbaroccio riposa in pace. Pittoresca protesta. Minoranza ai cittadini contro la fusione con il Comune di Pesero. Rappresentato un rito funebre con bara, fiore e corteo. Possiamo bloccare tutto con il referendum, dicono. Rogo alla Profilglas. Siamo sulla pagina di Fano del Corriere. Fumo nero in cielo, l'allarme lanciato dai passanti. Hanno preso fuoco gli scarti di lavorazione dell'alluminio. Danni limitati, nessun ferito. Sono intervenute due autobotti e un'autopompa dei pompieri. L'incendio è stato domato in pochissimo tempo. I vigili hanno bloccato anche la strada. La causa sembra accidentale, ma i carabinieri indagano. I cittadini sono preoccupati per le missioni. La futura centralina non tacita i timori. Sotto, festa dei fiori affollata. L'assessore, buoni affari. Tre giorni a tema, anche nel centro storico. Poi la serungarina. Quattro comuni associati per i servizi informativi. Accordo nell'Unione Valle del Metauro. E adesso invece apriamo le pagine del messaggero. Quella di Pesaro, quella principale. Lista di attesa piano o pronto. Regione potrebbe approdare già oggi al voto il testo riscritto con le osservazioni delle categorie. Esamine festivie di notte. Prenotazioni a cura dei medici per evitare richieste non necessarie. Sotto, campane a lutto contro la fusione. Monbaroccio in più di cento al corteo funebre per proteste. Poi anche qui la notizia dell'incendio al capannone della Profiglas. Fiamme ieri pomeriggio all'interno dello stabilimento di Bellocchi di Fano. Il meteo maltempo a metà settimana. Poi rientro di capitali da San Marino. Già al lavoro su diversi casi. Il presidente dell'ordine dei commercialisti alla vigilia della scadenza dei termini. Poi al via il comando unico dei vigili. Oggi il voto in Consiglio Comunale ma il piano sarà operativo da gennaio. Stiamo parlando del comando unico dei vigili urbani nell'Unione San Bartolo e Foglia. Per oggi è atteso il via libera a Pesaro. Poi sempre dal quotidiano romano. Export primo semestre ossigeno all'impresa. Una buona notizia. Dunque l'export è come un rimorchiatore che traina il territorio verso la ripresa. Le esportazioni della provincia di Pesurbino nel primo semestre di quest'anno sono cresciute del 9,34% rispetto allo stesso periodo del 2014. In corteo funebre contro i contrari alla fusione. Anche qui a tutta pagina. Poi si è discusso dell'unione di otto comuni. Invece in un dibattito a Osteria Nuova dove tra l'altro c'era il sindaco Matteo Ricci, il primo cittadino di Vallefoglia, Palmiro Occhielli e il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, si è parlato di passare dall'unione A4 all'unione A8. Anche qui scoppia l'incendio alla Profi, il glassa brucia un capannone dell'area Forni, il rogo nel pomeriggio sul posto pompieri, vigili urbani e carabinieri. 12 motivi invece per dire no al secondo casello della 14 o meglio il casello che dovrebbe chiamarsi Fano Nord. Li elenca il comitato a sostegno della soprintendenza che comunque ha già bocciato tutto. Allora chiudiamo con la pagina dello sport, ieri l'Alma ha vinto 5 a 0 contro la Recanatese, l'Alma è una furia, Fano saluta tutti con la manita, la Recanatese alza le braccia, doppietta di Gucci e Siville, Granata sono implacabili, quattro reti nel primo tempo, il secondo tempo si trasforma invece in un allenamento. Poi le interviste negli spogliatoi di Roberto Farabini, quando giochiamo così la differenza si vede subito, il presidente entusiasta dei suoi ragazzi, mentre Alessandrini l'allenatore aveva preparato bene la gara, temevo infatti la Recanatese, gli ospiti in silenzio invece negli spogliatoi. E allora siccome già ve l'avevamo annunciato che questa domenica saremo andati anche noi con le telecamere a fare le riprese e quindi così è stato, questa sera dopo il telegiornale riprenderemo e vi faremo vedere la partita integrale con la telecronaca di Sergio Catalani. E direi che come debutto non c'è male, vi faremo vedere cinque gol a tutti a firma Granata. È tutto, grazie per aver seguito la Rassegna Stampa, buona giornata e arrivederci stasera.